In Caffitaly, i chicchi di caffè arrivano da tutto il mondo. Li selezioniamo con cura e amore, li tostiamo alla giusta temperatura e li maciniamo a regola d'arte. Ma sono i nostri mastri torrefattori a farlo. Ma no dai, mi sono messo pure il grembiule. Caffitaly, ben 8 grammi delle migliori miscele esaltate dalla nostra macchina da caffè, con sistema pre-infusione per un gusto unico. Oggi con un'offerta esclusiva. Caffitaly. Conta solo il caffè.